Sta ormai per concludersi il giugno pietrino per la parrocchia di San Pietro, un mese ricco di eventi, tra momenti di preghiera ed eventi, sì non la processione. Dal 5 giugno infatti si sono susseguite diverse giornate, da quella delle vocazioni alle missioni, dalla giornata dei bambini e dei giovani a quella dello sport e delle famiglie. Un pensiero anche per gli ammalati, gli anziani, gli esaminandi ed insegnanti e poi ancora la carità e sensibilizzazione a favore dei detenuti e infine catechisti e messaggeri. La giornata dedicata agli artisti e musicisti di sabato 25 giugno invece viene festeggiata con il Festival dei Giovani. Quest'anno anticiperemo alcuni festeggiamenti perché il 29 pomeriggio in cattedrale saranno ordinati tre sacerdoti e quindi anticiperemo la messa solenne al martedì 28 alle ore 19 a seguire la processione di San Pietro per le vie, il circuito classico per le vie del territorio parrocchiale. Mentre lo spettacolo che di anno in anno ha sempre concluso tutte le iniziative del Giugno Petrino lo anticipiamo a sabato 25. Subito dopo la messa dedicata a tutti i musicisti, a tutti gli artisti con una benedizione particolare, presso l'Arena San Pietro, l'Anviteatro San Pietro, si svolgerà alle 20 e 30 uno spettacolo canoro che abbiamo chiamato Festa dei Giovani, Hashtag 2022. È un'occasione per poter coinvolgere dei talenti della parrocchia e non per vivere al meglio non solo l'età dei giovani per coinvolgerli ma anche per mettere in atto e a conoscenza dell'intera cittadinanza nissena i tanti talenti nascosti e i tanti talenti che vanno emergendo nell'adolescenza. Sono coinvolte anche le scuole superiori, abbiamo rivolto questo concorso ai vari dirigenti, alle varie scuole superiori e ogni scuola superiore ha presentato qualche ragazzo che si esibirà proprio in quella giornata. Ci saranno dei previ, ci sarà una giuria, vuole essere un modo la parrocchia San Pietro per tenere sempre alta l'importanza dell'adolescenza, l'importanza dei giovani e farle interagire con altre generazioni. Infatti non è solo la parrocchia San Pietro ma è principalmente l'Università Senza Età che organizza questo evento.